Lo so, lo so, lo sappiamo tutti, lo diciamo da giorni, di fronte alla tragedia di Giulia Cecchettin, massacrata dal suo ex fidanzato, usiamo ancora questo termine, anche se lo dovremmo definire banalmente un criminale, dovremmo essere tutti uniti, compatti. Circo Massimo, lo spettacolo della politica, di Massimo Giannini. Fare corpo unico, la società intera che si ribella contro una cultura sessista, patriarcale e che adotta tutte le misure necessarie, introduce nell'organismo sociale tutti gli anticorpi che servono per respingere queste derive terrificanti di intolleranza e di violenza. E dunque non ci dovrebbe essere spazio per le polemiche, soprattutto di ordine politico, che invece purtroppo ci sono e non smetteranno di esserci anche nei prossimi giorni, nei prossimi mesi, chissà forse anche nei prossimi anni, perché le questioni del genere, la differenza tra uomo e donna e una certa cultura che ancora tende ad enfatizzarle e a dimostrare che le donne ce la possono fare solo se hanno le stesse palle che hanno gli uomini, continuerà a zavorrarci e a renderci così diversi, così redrograti, razionari. E allora l'ultima polemica riguarda Giorgia Meloni e Lilly Gruber. Nella sua puntata di otto e mezzo dell'altro ieri, la Gruber aveva fatto una domanda ai suoi ospiti, all'interno della quale c'era anche una riflessione più generale, del tutto legittima, dal punto di vista di chiunque voglia ragionare su quanto sta accadendo in questo nostro paese. Sentiamo che cosa ha detto Lilly Gruber. C'è strumentalizzazione politica da parte della sinistra, di questo femminicidio, il fatto che abbiamo per la prima volta una donna Presidente del Consiglio che però ci tiene a essere chiamata il Presidente del Consiglio, un mistero della fede per me, ma sarà anche questo una cultura di destra, patriarcale. Dunque una giornalista, una conduttrice televisiva che fa alcune riflessioni. Naturalmente è ben lontana dalla sua idea quella di attribuire chissà quale colpa specifica per la vicenda che riguarda questo criminale di Filippo che uccide la sua ex fidanzata Giulia alla destra e meno che mai a Giorgia Meloni. Ma tanto basta, nella situazione politico-culturale nella quale ci troviamo, a innescare immediata la reazione della Presidente del Consiglio, che fa un post nel quale pubblica una foto di lei con la sua figliolina piccola, con sua mamma e con sua nonna e scrive in questo post «Non so come facciano certe persone a trovare il coraggio di strumentalizzare anche le tragedie più orribili pur di attaccare il governo». Ora la nuova bizzarra tesi sostenuta da Lilli Gruber nella sua trasmissione è che io sarei espressione di una cultura patriarcale. Come chiaramente si evince da questa foto che ritrae ben quattro generazioni di cultura patriarcale della mia famiglia. Davvero senza parole. Bene, lei le parole non ce l'ha, ma noi ce le abbiamo. Meloni sbaglia in maniera clamorosa, le ha anche risposto Lilli Gruber in maniera molto educata e misurata. Per parte mia voglio aggiungere un paio di riflessioni. La sorella d'Italia sbaglia nel metodo, prima di tutto. È sempre indizio di un'intolleranza e di una cultura illiberale quando un leader politico prende di petto e di mira un organo di informazione, una trasmissione televisiva, un giornale, un singolo opinionista, un singolo giornalista per le sue opinioni. Tanto più poi se quel leader è anche capo del governo. Voi vi rendete conto la dismisura che esiste tra un giornalista che esprime un'opinione e non racconta un fatto travisandolo, esprime un'opinione come è stata quella di Lilli Gruber sulla cultura patriarcale e sessista di questa destra e un capo del governo che il giorno dopo interviene o con un comunicato o con un post sui social per attaccarlo direttamente, direttamente. Capite la dismisura, l'abuso di potere che c'è in queste due posizioni. La critica è sempre consentita sia da chi fa informazione sia da chi fa politica nei confronti di chi fa informazione, ma prendere di mira il singolo è sempre indizio di una tendenza antidemocratica e qui si evince con tutta chiarezza qual è lo spirito di questa maggioranza che ora riguarda il tema del patriarcato, della cultura dei femminicidi, ma può essere allargato a tante altre questioni della nostra vita politica, sociale, economica. Basterebbe citare da ultimo il modo con il quale il governo ha trattato lo sciopero generale dei sindacati dello scorso weekend. Ma restiamo al tema, restiamo alla terribile vicenda di Giulia e passiamo al merito dove sbaglia Meloni nel merito. Meloni qui commette due errori a mio parere. Intanto posta la foto con sua figlia e sua mamma e sua nonna, quattro generazioni, dice, e basta questo a suo giudizio per dimostrare che lei rifiuta il patriarcato. Intanto si fa scudo della sua famiglia. Ma chi è che ha attaccato la sua famiglia? Nessuno. Nessuno ha nel criticare l'approccio che la destra ha ai temi dell'uguaglianza di genere, ai temi dei diritti della donna, considerato che la famiglia Meloni sia un modello negativo. E dunque perché l'utilizzo strumentale della propria famiglia? Perché l'utilizzo ancora più strumentale della figlia, una bambina? Perché? Perché è evidente che in questo modo si vuole cercare di dimostrare la turpitudine di chi muove attacchi e critiche politiche, ma lo si fa utilizzando la famiglia, che è una cosa terribile. Io capisco che questo è il governo dei fratelli d'Italia, ma è anche il governo dei cognati, delle sorelle, dei cugini, dei parenti. E quindi può darsi che nel momento in cui lo si critica immediatamente scatta una reazione familista e familiare. Ma non è questo il tema. Il problema non è la famiglia di Giorgia Meloni. Il problema è la cultura che Giorgia Meloni, il suo partito e la sua maggioranza in questo momento incarnano. Secondo errore. E qui entriamo più nel dettaglio. Nessuno pensa che i femminicidi, e meno che mai la morte di Giulia, siano colpa di questo governo. Purtroppo sono fenomeni storici radicati nella storia e nel costume di questo paese. E lo sappiamo, l'abbiamo più detto, l'adulterio commesso dalle donne in Italia è stato abolito nel 1969 con una sentenza della Cassazione, neanche con un voto del Parlamento. E il delitto d'onore, con annesso matrimonio riparatore, è stato abolito con la legge 442 il 5 agosto 1981. Vi rendete conto di cosa stiamo parlando? Dunque, il ritardo culturale noi ce l'abbiamo nel nostro DNA. Non è certo colpa della destra quello che sta succedendo oggi. D'accordo, questo credo, spero, che dovremmo essere tutti uniti in questa valutazione. Ma che questa destra, dietro questa paccottiglia ideologica della tradizione e della triade dio-patria-famiglia, anche questa utilizzata in modo del tutto strumentale, abbia una visione sessista, patriarcale, retrograda della società e reazionaria nei confronti della donna, è altrettanto innegabile. Senza voler stabilire un nesso di causalità tra la morte di Giulia e queste politiche culturali o subculturali della destra. Ma se ragioniamo sulle cause e vogliamo provare a immaginare com'è uscire da questo incubo della libertà e dei diritti delle donne conculcate fino a ucciderle, dovremmo ragionare di cultura, dovremmo ragionare di come la politica affronta questi argomenti. Gli esempi non mancano in questi giorni, in questi mesi, in questo anno di governo. Pensiamo solo alla manovra economica, appena licenziata, da questo esecutivo. Prevede che gli aiuti alle donne ci siano solo se sono madri, perché la figura femminile vale di più se e quando procrea, non in quanto donna in assoluto, ma in quanto madre. Questa è una differenza? Questo ci ancora a un passato che non passa? Insisto, nella stessa manovra, ma anche fuori dalla manovra, non c'è una sola misura che contribuisca a colmare lo scandaloso divario che esiste nei salari degli uomini e in quelli delle donne. Neanche una sola misura. Infine, lei stessa, parlo di Giorgia Meloni, nelle sue azioni e nelle sue comunicazioni raramente dimostra di saper cogliere la dimensione collettiva della vita femminile e del femminismo in particolare. Piuttosto lei insiste su un modello di donna che è ritagliato su se medesima. Io ce l'ho fatta, sono diventata presidente del Consiglio, non sono più l'underdog. Dovete fare come me, dovete dimostrare all'uomo che avete più palle di lui. Questo non vuol dire avere una cultura evoluta dei diritti delle donne, vuol dire semplicemente dimostrare alle donne che esiste un femminismo alla carte. Quello mio è questo. Se ce la fate, adeguatevi. Se non ce la fate, è un problema vostro. E lo sapete da cosa si evince questa attitudine? Pensate solo al caso di Andrea Gianbruno, ve lo ricordate tutti, quello che è accaduto con quei fuori onda. Ebbene, fuori onda dell'agosto, il 7 settembre, Giorgia Meloni interviene per giustificare quello che lui disse una volta, quando appunto in estate, in una puntata, si lasciò scappare quella frase. Certo, se bevi e ti vesti in un certo modo, alla fine il lupo lo trovi. Bene, lei pochi giorni dopo in conferenza stampa disse, ma Gianbruno è stato travisato, non voleva dire nulla di scandaloso, voleva semplicemente dire che alle ragazze non mettetevi nella condizione di consentire a quegli animali di fare quello che vorrebbero fare, non mettetevi nella condizione. Che vuol dire non mettetevi nella condizione? È la vittimizzazione secondaria di cui parlava una grande donna italiana che si chiamava Michela Murgia. Quando c'è un episodio di violenza, quando c'è un femminicidio, dopo aver pianto la vittima, la cosa che si fa immediatamente, magari si condanna anche il colpevole, ma si aggiunge sempre e però lei che cosa ha fatto? Lei cosa faceva? Come era vestita quella sera? Che comportamento ha avuto? Ha bevuto? Ha preso droghe? Ecco, questo è inaccettabile. Così come è inaccettabile. Dopo che Gianbruno compie il pasticcio definitivo con quei fuori onda, Giorgia Meloni il giorno dopo pubblica un post nel quale lo licenzia da compagno. Lo ringrazia per tutte le belle cose che gli ha donato a partire da sua figlia Virginia, bene, bella cosa, molto dignitosa, ma dimentica di dire quello che Gianbruno ha fatto in quello studio televisivo, nei confronti di quella giornalista che era seduta lì di fronte a lui e alla quale lui si rivolgeva con quelle parole. Perché non ti ho conosciuto prima? Facciamo il trisom, facciamo il forsom. Di questo Meloni non dice una sola parola in quel suo post. E dunque, brava perché hai cacciato di casa un traditore mascalzone maiale, bravissima, ma tutte le altre, a partire da quella giornalista, su quello neanche una parola. E dunque torniamo al tema. Questa destra mantiene nel suo DNA culturale un atteggiamento sessista e patriarcale? Io credo che tutto questo non sia discutibile. È evidente che è così. E questo, se vogliamo ragionare di come contribuire a risolvere o quantomeno ad attenuare questa tragedia della violenza sulle donne, è un tema del quale dobbiamo poter discutere. Vogliamo discutere. Io sono con Elena Cecchettin. Il femminicidio è un omicidio di Stato perché lo Stato non tutela e non protegge le ragazze, quelle di oggi e quelle di domani.